Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Sì, speriamo che si sia salvato Ma porco Dio, la madonna Dio, coane Rostinaria, rostinaria, vai genna Ci siamo in avanti Vieni ci vediamo cosa facciano da qui C'è come mettere un attacchi C'è nemmeno Rennon si mette a traverso Iiiii Scorpione, mamma mia! Ii male go ragazzi il timer è stato stoppato è stato stoppato e ho giunto 12 ore in più in modo che finisse domenica alle 22 per salutare tutti quanti e ringraziare chi ha partecipato a questa maratona arriviamo a 80 giorni di live abbiamo messo anche le moto nuova e tutto quando mi dispiace che qualcuno la pensa che sia scam o non scam però comunque io tutte le ore le finisco ho solo deciso di non aumentare più il tempo perché sono stanco vi parlo onestamente quindi questo è il motivo del timer ragazzi grazie a tutti mannaggia gesù cristo mannaggia maron chi è su strunz coppa discord dai vai giù ma porco dio ma non vedete che è cambiato e non mi dite che lo script vai giù perché non è possibile è questo che servono le tattiche in posto quale tattica ma che tattica cambia proprio il gioco non sono riuscito a prendere più una palla è cambiato completamente il gioco la drago di da tutta la cultura la puttana di mamma tu è la gran da cessa zucca pesce mannaggia maron questi sacrosanti musca vi faccio in cuida una una e vi faccio scipo tutto per cuore mannaggia la madonna bui scassa capo cretini ma sentite ma per caso facendo pure pizza no la pizza non la fate volevo una pizza che ci c'è fra reale no va che poi piccante dopo ti muove troppo lo stomaco ma buona dopo di margherita che è meglio la ringrazio gentilissima sono poche panina sta pizza una pizza panino a faccia mia devo dire complimenti al pizzaiolo fa veramente schifo sta pizza se lo posso dire onestamente greve ciao come stai tutto bene allora che stai dicendo che stai dicendo che stai dicendo come stu credine Ahi sentito. Ah no. Ahi sentito. Quindi. Questo è il motivo del timer ragazzi. Grazie a tutti. Mannaggia Gesù Cristo. Mannaggia Maron. Chi è su Strunz Coppa Discord? Incoglionito. C'era la testa del bagno qua. Sta a peg. Noi se mi sa peg. Ma chi? Ma chi? Se mi sa peg. Noi ce lo chiamo un c***o. Pa 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 pa. Oddio. Mi disse. Ho preso la testa. Ho preso la testa. Che abbiamo due. Dove è me? Io c'ho la torta. Un cesto. Dimi come si dà la torta? G. Droppa la terra. Vieni qua. Ese è il passo del canguro. Ese è il passo del canguro. Ese è il passo del canguro. Buon giorno. Ese è il passo del canguro. Ese è il passo del canguro. Ese è il passo del canguro. Io sto lavorando però. Anche noi. E qual è la cultura del messicano? E io verso la gioia così. Guarda io posso spendere 30.000 proprio esagerato. 30.000? Vedi a te. Tonni pagacello tua pagina. Poco Massimo proprio. Poco Sagerà. Poco tra su. Aspetta fammi vedere. Pensavo a cosa ce l'ho. Più tardi perché chiudo e faccio il canico perché così non faccio. Ma secondo me non lo puoi aprire pure con poco però... Dividi se va. Cioè no no è il mio sito streaming. Le regole decido io. Non posso decidere le regole. Tipo che ne so voglio scorreggia. Ehi. Amo. Ma hai fatto una puzzetta. Non è vero. Non è vero. Pure con la mano. Non è vero. Non sia amore. Ma è da... Oh porca madonna. Madonna. C'è forza cariù. Sto cazzo è rietta. C'è Gesù l'està. Dì. Dì.